2, 1, on camera, e ciao a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video rifatto Non mi presenti? Scusa mi sono dimenticato L'educazione non c'è E' vero Sì, lo so, l'ambito Troppo lento Ah Scusate questo video è un video rifatto perché non vuol sto neanche a dire Ve l'ho già detto, lo so Sono ripetitivo Sono un po' lo so Abbiamo 4 paura, ci ne avremo anche 5,6 Ma da qual è che hai 8bit? Da i tempi del 50 ecco perché 8bit Non mi fa muovere No, cosa devo fare? Ehm, ogni tanto mi si sbagliava Ehm, ogni tanto mi si sbagliava Ehm, stecca rite un po' e ha analizzato un po' e tante stecca Ahahahahahahah a volte tanto sembra un fancosmo che cazzo ahahah lol lol e abbiamo vinto volevo fare una partita vera perchè sempre la mica volendo un po' stufano sinceramente e non contro ok adesso facciamo conto nice allora togliamo sto bot lol 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 metti pronto ok io metto ovviamente questo perchè devo far vedere una cosa divertente che non sto neanche a dire ah adesso vi devo dire una cosa adesso vi devo dire una cosa drammatica sul bull anche la dici tu perché io non me lo ricordo dai bull ha problemi di crescita purtroppo credo proprio abbiamo tipo 27 anni e e a sei anni pesava pesava già 35 kg e 135 e 135 cm e mezzo oh me si non sto scherzando davvero però bull è molto forte adesso quanto è alto quanto è alto che ne so ah almeno i nostri botte sono sono interessanti bravi interessanti che mi stavo just i play yo qua aaaah ecco questo qui erano una determinata persona non c'è non c'è questo qua adesso questo qua è su dobbiamo fare imparare a cristiana aaaah far imparare a a pixel che non deve mai mettermi conto per i dati metti o perdo o perdo oppure vico io e urlo non c'è tantissimo fino a spaccare il computer a fare la la e la super discelle contro il computer ecco beh potrebbe essere già un problema troppo e anche 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 come tavolo si chiama ticco ticca anche ticca anche le bolle si usa abbastanza bene i gadget tra un po' tra un po' sprocco il bo sprocco il bo scusa bo ma tra un bel bo tra un bel bo eh vuoi litigare? ecco ogni volta che litighiamo bull perdi lo so ti conosco intanto buco loro passaport sapete che bull andava a rapinarlo qua? no no non lo volevo sapere grazie oh yeah easy oh yeah tornino alle bull angry bull aspetta adesso adesso faccio qualcosa di meglio eh eh si praticamente la non mi presenti scusa un attimo ma la il gadget di tic è uguale a quello di shell è vero il turbo scatto non tanto che da una mina solo che da una mina non da il proiettile è questo forse potrebbe essere un piccolo problema ma è proprio piccolo 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 non fuori non fuori non fuori non fuori eh però scegli a rotto scegli a rotto scegli a rotto ma ma è il proiettile è un proiettile ma non ho capito ma che cosa è l'obbitorio gg che significa l'obbitorio gg che significa l'obbitorio gg 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 c'è ma ha rallentato ha rallentato la palla si si in termini non ambiti però e dai 56 di vita solamente impo 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 credibile impo credibile ipopotamo ipocrita dai distruggiamo stai 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 e vai obbitorio gg devo provare devo provare a usare colt come sarà colt in questa modalità metti pronto lo scopriamo subito bull potrebbe essere un piccolo leggero problema no però se no ti siamo tutti brawler del cammino dei trofei ma quanti trofei si sblocca colt? eh 40 se non sbaglio 40 30 vedi vedi che è buono colt da usare è buono da mangiare non da usare è anche da mangiare lol c'è ma abbiamo già visto impossibile impossibile impossible no e quel bull pensar not void not fo no not fo not fo not fo not fo no no con quindi abbiamo scoperto finalmente che colt che colt è un buon brawler per rapina o maxi però potrebbe essere un altro problema perché ancora super va veloce quindi se l'ho quale il nome inglese di steppe riuscire a rinocerci rinocerci un coscierto un po' scelta un po' scelta di pochi ma o ricoste a pubblico io ho detto i miei il conto non è tanto utile quanto quello di scegliere ma sbaglio o scuola scende con te si vogliono bene mi da di più conto buzza di cose brutte non solle mie scelte per non guarda che faccio guarda come utilizzo super ma perchè la usi così perchè così bucca e poi puoi andare più facilmente non l'hai notato dai io almeno io ho altri colpi oh yeah turn in attività e ma si sa pensano a quel che esatto e ok ragazzi direi che questo video si può concludere qua e noi ci vediamo in un prossimo video ciao ciao